In quest'area di Fondo Saccà, cosiddetta di Mare Grosso, quest'area è interessata a un forte processo di riqualificazione urbana, che è una riqualificazione che è fisica, lì verranno abbattute le baracche, verranno costruite un giardino, un orto didattico, delle nuove case per gli abitanti del quartiere e per le attività sociali. Una di queste case è dedicata proprio ai bambini, quindi sorgerà un centro civico ed educativo di comunità. Ma in attesa che la casa venga ultimata, noi abbiamo già iniziato le attività sociali sul territorio, quindi tutto un lavoro di mediazione con le famiglie del quartiere, le stiamo accompagnando a scegliere l'opportunità di acquistare casa o di scegliere una delle case messe a disposizione del comune. E poi abbiamo cominciato a lavorare con i bambini, con i bambini del quartiere, con laboratori creativi, i laboratori del circo, con incontri di formazione per gli adulti. Stiamo investendo, come abbiamo detto in conferenza stampa, sul futuro, sul futuro di questi bambini, ma anche sul futuro della nostra città. Qual è la risposta delle famiglie? Allora, devo dire che ci ha sorpreso, ci ha sorpreso, perché noi siamo entrati in un territorio che voi conoscete, che è molto problematico, viene da anni e anni di difficoltà, di problematicità. La risposta è molto positiva, le famiglie stanno comprendendo che effettivamente qualcosa sta cominciando a cambiare. Ovviamente noi siamo lì con loro, noi abbiamo scelto di abitare quel quartiere e quindi hanno compreso che in qualche modo abbiamo scelto quel quartiere anche per promuovere sviluppo locale dal basso.